E ciao a tutti ragazzi, o forse dovrei dire ciao a tutti amici napoletani perché tanto quando si tratta di Milan-Napoli o Napoli-Milan il 96% delle persone che capita qui sono di colore azzurro e questa partita è così disgraziata che è disgraziata ancora prima di cominciare però io voglio dirvi una cosa e voglio fare un azzardo di quelli veramente 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 azzardati dicendovi che secondo me prenderemo più gol da Napoli che dare al Madrid secondo me andrà così poi vedremo cosa racconterà il campo questa è la partita più stigata che deve ancora iniziare fuori Abram, fuori Ternandez, fuori Renders, fuori Pulisic, fuori Gabbia ora per fuori Renders e fuori Ternandez io non mi voglio veramente esprimere perché poi rischerei di far partire un bordello che la metà basta però l'unico commento che riesco a fare è solo in Italia succedono queste cose punto Napoli in spentita forma arriva da una striscia molto cospicua di vittorie e soprattutto di vittorie molto corte 1-0 risultati molto convincente dal lato perché sono molto diversi dagli 1-0 che otteneva il Milan l'anno scorso gli 1-0 del Milan dell'anno scorso lasciavano molto amaro in bocca invece questi 1-0 del Napoli li vedo molto molto solidi secondo big match stagionale il primo l'abbiamo giocato contro l'Inter vinto 2-1 gli altri big match che abbiamo avuto sono stati fuori dal campionato italiano uno è stato lo scontro con il Liverpool e l'altro con il Barry Verkusen giocati e persi in maniera molto netta e anche molto amara e speriamo che oggi ragazzi io spero nel pareggio vorrei vincere sì vorrei vincere però se guardiamo come siamo messi noi e come sono messi loro se riusciamo a pareggiare va benissimo va benissimo anche perché ricordate che se dovessimo vincere potremo indirettamente fare dei favori a qualcuno quindi io ci penserei un attimo due volte ecco perché io riprendo anche una celeberrima frase del signor Allegri gli scudetti non si vincono vincendo i big match ma si vincono vincendo con tutte le squadre dalla settima in giù e non mi può trovare più d'accordo di così ciao che deve marcare Lukaku fa già ridere così fa ridere ancora prima che la partita inizi figuriamoci a partita iniziata San Paolo pensaci tu poi noi si tifa noi si spera nel meglio sempre e comunque e se dovesse andare male se non dovessimo vincere non sono queste le partite che potrebbero metterci in un'ipotetica crisi si inizia ragazzi ha battuto il Napoli Morata che è proprio killer il killer alvaro Rachmani ha sparato addosso a Lukaku finale di Champions intensifies o anche intershackar intensifies questi hanno già tirato comunque sono passati 3 minuti e 14 secondi adesso ogni giocatore ha il suo di rimpettaio diciamo rischia qualcosa nooo Anghissa a Madonna che palla ha regalato a Lukaku 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 quella destra e quella sinistra gli ha regalato dagli anche il culo dato che ci sei c'è cazzo Pavlovich Pavlovich la palla regalata era intesa Pavlovich che ha fatto una dormita pazzesca una dormita pazzesca una dormita pazzesca pazzesca il Milan non sa chiudere le linee di passaggio ma questa è una cosa antiquata neanche conosciuta antiquata è una piccola grande disattenzione della coppia centrale no questa è proprio una puttanata della difesa del Milan è diverso non una piccola grande disattenzione è una puttanata adesso valla a pareggiare sta partita vai dici voglio proprio vedere a pareggiarla infortunio squalifiche non importa questo gol non si prende tu puoi avere in campo anche il Milan neanche il primavera il Milan inverno secco tu questo gol non lo prendi capito cioè Pavlovich ha fatto tutto quello che di sbagliato poteva fare non ha letto il movimento di Lukaku di Angissà per lasciarlo in fuorigioco non ha marcato non l'ha contrastato non ha fatto nulla non ha fatto niente Vaucafor Terracciano ma coglia la porta tazio hai tirato male hai tirato piano hai tirato pure verso la rimesa laterale Morata cazzo e si va al 2 a 0 qua la schella si va al 2 a 0 ha difeso più Morata che tutti i quattro dietro messi insieme e questo è preoccupante tanto è sempre la solita storia i primi 10 minuti non ci capiamo mai un cazzo fate qua giocano occhi chiusi riecco Lukaku riecco Lukaku giocano occhi chiusi occhi chiusi Conte non faceva per il Milan no 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 Conte non era l'allenatore che rispecchiava quello che noi cercavamo in effetti se quello che cercavate l'avete trovato in Fonseca sta frase avrebbe anche senso Cucuese lascia la tussic vediamo come come è mandata a puttane questa azione Musa destro fuori devi cogliere la porta zio devi cogliere la porta è 7 metri e mezzo guadagni milioni cogli la porta con occasioni così segnatevelo 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 non ricapitano più segnatevelo Morata e dai con altre palle buttate via un quarto d'ora di possesso palla per perderla si Cucuese il tiro Meret abbiamo abbiamo tirato un porta da 68 metri ma almeno abbiamo tirato un porta mi sa cosa mi ha alzato il Milan in questi minuti lo stimolo della cagata mi ha alzato solo quello mi ha alzato mi son già rotto i coglioni Okafor Okafor si rimessa laterale ha tirato rimessa laterale ragazzi basta 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 mi viene da vomitare basta attenzione questo errore e ovviamente ovviamente ti regalano palla e te ce la butti non ce la butti non ce la butti non ce la butti neanche regalata dal portiere potevi passare potevi tirare potevi tirare non è fatto nessuna delle due neanche se te le regalano dopo un errore così te fischi in panchina a tempo indeterminato lo sai vero che schifo quando abbiamo la palla fuori dall'area siamo i migliori quando si arriva in area basta finita finito il divertimento e dai altro passaggio sbagliato di Mosa basta 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 non si concretizza facile concretizzare contro il Venezia contro il Club Rouge è facile devi far gol stai perdendo sei sotto 1-0 dopo 5 minuti cioè ti ha regalato la palla quello se l'è allungata cioè io più volte lo vedo più volte veramente mi sale il vomito questi hanno fatto gol dopo 5 minuti ma gli basta gli basta e gli avanza forse non ve ne rendete conto ma Tomine vai dentro per Lukaku cioè c'hanno sempre qualcuno che però li va a aiutare ed è Di Lorenzo che va il cross sul primo palo megnano e Musa togli togol di Politano oddio togli dal campo Musa per favore togli dal cazzo Musa togli dal cazzo Musa togli dal cazzo Musa subito cioè Musa non solo ha sbagliato un gol non dico già fatto ma che 9 volte su 10 viene fatto sta pure per regalarlo a Napoli seriamente ciao Lotus Chic per Emerson Royale la palla ovviamente dove va fuori ma perché il Napoli ogni azione che fa arriva al tiro e noi arriviamo al tiro una volta ogni 6 azioni e non succede solo con il Napoli questa cosa succede con tutti quindi non trovate la scusa dell'avversario trovate la scusa che fate cacare al cazzo magari solo che se incontri il Venezia e che di azioni te ne fa fare 33 a partita è ovvio che vinci Morata e un'altra palla persa un altro passaggio sbagliato a quanti siamo non lo so non lo so non lo voglio sapere ragazzi intanto riappalla il Napoli nella tre quarti ci sono almeno metà dei giocatori che sono smarcati lo sai lo sai lo sai Fonseca che adesso Cavalascaglia andrà al tiro che adesso Cavalascaglia andrà al tiro che adesso Cavalascaglia andrà al tiro 2 a 0 Napoli eh 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 ragazzi vi divertite a sbagliare gol vi divertite a sbagliare i passaggi degli ultimi metri vi divertite a sbagliare occasioni quando sono addirittura gli avversari a regalarvi palla questo è quello che succede che arrivano i gol però dall'altra parte e io spero che arrivi il terzo e io spero che arrivi il quarto e spero che arrivi il quinto e spero che arrivi il sesto e spero che arrivi il settimo perché Conte non entrava ai nostri piani Conte non era l'allenatore giusto per il Milan Conte non era ciò che cercavamo io ho aspettato proprio questa partita per dirlo non aspettavo altro che la data di oggi per potermi dare ragione bello che bello ragazzi che bello Traciano è morata l'appoggia all'annulla all'annulla ragazzi all'annulla basta vi prego basta 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 mi fa male la testa basta basta vi prego vogliamo quittare questa partita all'intervallo cosa mai successa prima no perché possiamo tranquillamente farlo dai tutti all'intervallo peggior partita dall'inizio della stagione peggio di Parma e Torino complimenti Conte non faceva per il Milan inizia il secondo tempo di questo schifo si schifo è il termine più adatto mi sono anche tolto il cappello ragazzi cioè veramente non vedo la finica sta partita inizia questo meraviglioso secondo tempo c'è il cross c'è il gol di Morato c'è il gol di Morato ora io non ho idea di chi abbia colpito ma comunque penso abbia colpito Morato il gol del 2-1 ragazzi non si può esultare a questo gol mi dispiace dopo le occasioni che ci siamo mangiate e il gol che abbiamo concesso non si può esultare a questo gol poi va ancora convalidato però se o meno a nulla non lo sapete ovviamente gol o non gol non cambierebbe niente perché la nostra prestazione è veramente uscena dici eh sì però in questo caso avresti 45 minuti per fare un gol vi dico io che anche il gol fosse convalidato non servirebbe a niente ve lo dico io sì questo ragazzi appena ho visto il primo ripeto tutto questo è fuori gioco però ripeto non cambia la sostanza delle cose questo è fuori gioco gol quello che può essere sticazzi no no si riparte dal portiere ta ta fuori gioco con un po' più di cervello cosa che non abbiamo mai in queste situazioni l'occasione regalata dal Napoli e questo gol poteva essere tutto un altro risultato questo a casa mia si chiama buttare via una partita cioè ma si possono creare occasioni perché la palla sbatte in faccia al nostro giocatore cioè ma al di là di meret non meret ma si possono creare occasioni perché la palla sbatte in faccia no non si può non si può Ciccubes l'autocic c'è Emerson l'autocic va avanti da solo dentro e un altro gol sbagliato poi perché non esulti e gol perché che ne è possibile mettere la palla nel mezzo non ci arriva nessuno ragà dai ma che cazzo avete rotto i coglioni avete rotto i coglioni veramente io non ce la faccio più 66 gol sbagliati quello fuori gioco cioè ma a giocare a calcio ce la fate a giocare al cazzo di gioco del calcio Ciccubes ennesimo cross che dove finisce esattamente in rimessa dal fondo vai 3-0 Napoli 3-0 Napoli 3-0 Napoli va dentro 3-0 Napoli Lukaku grazie grazie un cazzo dovete fare questo 3-0 così qualcuno si sveglia Conte non era nei piani del Milan e dai dai lasciate veramente fare quello che vogliono però li lasciate fare quello che vogliono li lasciate fare quello che vogliono Conte non rientrano i piani del Milan non è il profilo che stavamo cercando bella sta sventagliata cavale a scheglia dai 3-0 3-0 3-0 punta dentro madonna Mectomini madonna Mectomini madonna Mectomini zio che ti sei mangiato perché non hai fatto 3-0 madonna Pulisic che calcio d'angolo di merda che calcio d'angolo di merda ancora lì ancora il cross e la palla direttamente a Meret ragazzi è incredibile come io ancora prima che le cose vengano fatte so già dove andranno a finire è veramente incredibile Musa dentro è la quarta volta ragà è la quarta volta basta un altro cross che non ci va a nessuno che la palla sfila via un altro cross tra l'altro messo anche bene strano a dirsi ma messo anche bene in cui la palla viaggia tranquilla verso la rimessa al fondo laterale ragà basta basta queste puttanate basta lo sapete che se l'Inter stesse giocando contro questo Napoli che è arrivato a San Siro oggi starebbe non vincendo ma stravincendo vero lo sapete ma cosa tiri da centrocampo non lo so io leao tira calcio d'angolo si è tardi è tardi è tardi è tardi per svegliarsi Cucuese lascia sul posto Olivera vediamo come sbagliamo gol e Pulisic la spara al secondo anello e lo ripeto l'ho già detto nel primo tempo quando è alto quando è largo quando non è potente quando è da lontano quando para c'è sempre un difetto in ogni tiro che fa il Milan ogni volta che si avvicina all'area di rigore c'è sempre un difetto c'è sempre un problema una cazzo di palla in porta la tirate? no non la tirerete mai 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 rigore in movimento cogli la porta poi separa pazienza cogli la porta ma cazzo metti camarda cazzo metti camarda ma dai raga leao dentro morata se dormi 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 pulisic ancora pulisic in bocca a meretti musa tira va bene ragazzi la partita può anche finire qui vado a dormire due minuti prima fine basta rotti i coglioni ciao 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 Grazie a tutti.